Vivaio Idea Verde di Carmelo Liberto, piante ornamentali, piante da frutto da orto, terriccio e pellet. Ci occupiamo di realizzazione e manutenzione giardini, abbellimento terrazze e verande con fiori di ogni tipo, progettazione e pose in opera di impianti di irrigazione e tantissimo altro ancora. Veniteci a trovare sulla strada statale 113 in contrada Piana Marsala Cefalù. Info 348 93 26 591.